Al via il secondo tempo di Foggia Crotone, quarti di finale affidati al fischietto del signor Mario Perri della sezione Aia di Roma, coadjuvato da Federico Pragliola della sezione di Terni e Giacomo Monaco della sezione di Termoli. Invece Mattia Caldera, quarto uomo ufficiale, si riparte dallo 0 a 0 e quindi praticamente in questo momento l'arbitro ha dato il via al match. Tra 15 minuti di aggiornamenti salvo cambio di risultato. Linea allo studio.